là c'è la parude qui va ? 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 qui ? ploro ? qui ? ciao ! statsonalУ respiro ! Quanto millequattro, bella lì, disinfestazione, si codichi spostamenti, bello, dopo lo metto Allora, qua c'è, lì c'è, lì c'è, c'è un po' malissimo, vittorio Ah, c'è sotto Ok, via via Quindi ho finito tutte le disinfestazioni, guardate, ci dobbiamo cercare Non ci sono più disinfestazioni in giro, ma strano Carne fresca Ok, ce l'ho già Che cosa c'è qui sotto? Un altro registratore Sì, un 0.000 Prima dobbiamo finire Nota operativa 1-0-0-5 Raccolta dati dal sito 8-1-9 E nei richiamo per le sguerze Il sensore di movimento segnala che dalle 8-0-0 di tre giorni fa Allora, ok Qua c'è un altro punto della morte Va per così Ah, altri 8.000 Homo sapiens, mutants, turba Sono passati da qui È un'orda gigante Sai quante persone vivevano in California prima dell'evento, caporale? Non ne ho idea 39.250.000 Supponiamo che almeno la metà sia rimasta uccisa All'indomani dell'epidemia Dal virus o da superstiti poco inclini al dialogo Fanno più o meno quanto? 20 milioni di Homo sapiens, mutants? Più o meno? Non capisco dove vuole arrivare Il mio punto È che 10.000 infetti sono una goccia nell'oceano Prima che sia finita Ne arriveranno decine di migliaia Centinaia di migliaia Milioni di infetti L'hombre sta mannato Superstrada Un branco di pinguini cannibali Diretti al mare La pista di sangue Signore Lascia stare Riavviate il sensore di movimento E filiamo via da qui I ruoi che avevano ragione Continuano ad arrivare fronte di turisti della California Ma orano più ferme E sono meno esigenti In qualche luci Mi ha fatto mentale C'è un'orta? C'è un'orta? Allora, dove va così? Sì! C'è un'orta E dove cazzo posso scappare? Cazzo è fottuto Trappo Bomba da remoto Bomba di prossimità Mi sta sul cazzo La bomba da remoto Si dovrebbe andare Dai! Oh cazzo Voi l'ha fatto esplodare Allora, come Acredita сь Abosa One One Uno Due Yeah Due Abosa Mo' poledio Bosa che cosa sei in plaza pietra? ooooh che abbra ooooh ho fatto l'indietro di bambino E se ne ammazzo poco per volta! Ti cazzo sono, porco! Camanonna, per tantissimi! No, è impossibile! No, è impossibile! No, è impossibile! Sono tantissimi! Assolutamente tantissimi! C'è un altro barile! C'è altro cherosene! Non è vero! Non è vero! Sono un mini trapato! O spedetto! O spedetto! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Oh, è vero! Non è vero! Non è vero! Cosa? Cosa? Non ci vedo l'altra parte! Minchata lui! Non è vero! E lì qua! Eeeh! E' un'altra parte! Non è vero! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Ma hai respawnati tuttaった ? Ma anche che non è senso. Si sono respawnati tutti. Oh, il lupio, stia. Stia, pa un colpo. Non mi capito che si spona di tutto e non si distrutta... Non mi capito, non mi capito. C'è ancora tutto da qua. Boh, non ho senso. Non è ridotta troppo male. Non c'è la munizione, non c'è la cosa che fanno da lì e fanno i puff un'altra volta. Un po' strano. 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 ho finito i difendimenti così ho ammazzato due volte un'orda non lo faccio mettere da questo che è? non c'è niente dentro ma strao diventa più ok qua niente allora andiamo un po' dove cazzo sono sti cosi? forse andare sopra a spaccare no qui? si no qua ecco di questo c'è la c'è un bel micio c'è più il micio ahhh 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 parte ahhh 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 Ma che... Oh! Oh! Morto! Tu sto casino per preparare i miei libri qua e morire! Ah, ma... Uh, salve... No, aspetta c'è qualcosa... Ha un tubo piccolo... Mmm... Mmm... ... ... ... Grazie. Mi serviva proprio. A posto. Ok, i luci verdi è sempre un buon segno. Sì, finalmente. Ok. Sì, è un iniettore della nero. In mezzo del ponte di Piletz. Adesso non può finire tutti i cosi. Un altro di quei registratori. Un altro di quei registratori. Un altro di quei registratori. Arrivano ancora. Sono troppi. Qui non possono entrare. È sicuro. Merda! Il generatore! È secco! Non c'è corrente! La... la corrente! Merda! 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 Tu non capisci. Le porte. Abbiamo attivato la chiusura d'emergenza e ora non possiamo aprirci! Bene! Cosa... cosa faccio? Non lo so! Bene! Bene! Prima me! Ti scoprirò! Bene! Non posso! Non ce la faccio! Che Dio ti aiuti! Oh Gesù! È un modo fenomenale per uscire. Perché aspettare allora? Allora... Allora... Chiudai la chiusura per un momento. Mamma mia! Jò che c'è da fare! Ok.